e benvenuti ragazzi in questo nuovo video sono crash game e oggi siamo su minecraft ma oggi non siamo su un normale minecraft siamo su big dig allora io già vi dico dall'inizio che non conosco questo pacchetto di mod l'ho appena l'ho appena lanciato per così dire dal menu di technic avevo intenzione di fare video di diciamo del pacchetto mod techit ma purtroppo ho avuto dei problemi e quindi ho dovuto cambiare il pacchetto questo mi incuriosiva molto ed come ho visto dall'immagine credo che questo pacchetto contenga molti altri minerali con creiamo un nuovo mondo chiamo youtube supervivenza per sicurezza io lo abito ma non c'è più abilito ma non preoccupare che non lo userò casa bonus no ok solo per sicurezza l'ho fatto ragazzi non vi preoccupate ok ok dai ok ok aspettate un attimo e perfetto perfetto lagga un po' no perfetto ok un po' lagga ma credo che credo perchè c'è un mondo ah ok come ho visto già spuntiamo con con perchè c'è questo ahahah sento un rumore strano comunque eh beh visto che abbiamo l'armatura se la mettiamo e c'è metri c'è un libro mettersene io getting started ah non so che cosa sia comunque eh appunto volevo dirvi questo io non conosco questo pacchetto a mod quindi non conosco niente perfetto è quello che speravo e attacchiamo questo ceppo come è comparsa comunque eh volevo solo dirvi eh che io non conosco questo pacchetto a mod e quindi se qualcuno conosce questo pacchetto eh può darmi liberamente consigli eh questo dovrebbe essere un albero strano perchè ah ok l'ho visto questo albero già da qualche parte ma non ricordo comunque eh se qualcuno conosce questo pacchetto mi può aiutare diciamo dare consigli eh diciamo tramite i commenti un messaggio privato come volete voi eh cosa vorreste da dirvi si ecco che se qualcuno eh volesse giocare con me eh in questo pacchetto io sono diciamo disponibile eh mi contatti sempre in privato sempre in commento e lì c'è un albero strano perchè c'è un albero strano ok ok non so perchè c'è un albero strano ma comunque siamo ne abbiamo della neve eh beh credo che già la l'avete capito allora io e i biometti della neve non mi piacciono molto perchè non mi piacciono molto perchè sono molto grandi e si si ci può perdere molto anche se è pieno di alberi e c'è una pecora e morirà morirà due pecore se ci date ok quattro pecore e già so fare con la quarta che cosa mi ha dato non ci credo oddio calma non ci credo mi dà tipo le cosci tipo le cosci d'agnello che cosa mi dà cioè ormai le pecore a questo pacchetto di modo mi piace c'era un'altra pecore eccola la le pecore si immaginizzano con la neve ma non scapperanno mai è la mia furia comunque ci sono anche dei dei fiori strani comunque qui ho visto alcune ecco qua scendo di qua è sicuro qui c'è un'altra coscietta di agnello e ho visto questo materiale che forse è la pistilazzoli perfetto e ho visto anche del carbone che non prendo un momento perchè dove è sole? dove è sole? diciamo che è mezzogiorno qui in minecraft sto registrando alle 11 e 59 quindi è mezzogiorno anche qua da noi comunque per prima idea io volevo fare una altre pecore le pecore non le uccide mai le ho uccide solo il primo giorno per farmi un letto ma ora io le voglio uccidere anche perchè mi danno la carne e anche per fare un'altra cosa che forse qui non c'è ma io non lo so allora ci sono tipo 160 mod mi sembra sì? 160? eccoli quelle è un albero che ho visto eccoli la giungla e qua che cosa è quello? ok ci voglio andare subito e voglio farmi una bella casuccia in una zoo potrei farmela diciamo in quella collina perchè qui c'è la foresta la foresta della giungla qui qualche collina si potrebbe fare si potrebbe fare ho visto anche quella era una grotta quindi potrei anche andare in miniera e ci sono questi alberi strani che voglio vedere che cosa sono è bello vediamo che cosa sono credo che forse saranno solo di per abbellire la nostra casuccia vediamo ah l'eucalipto quindi ci sono i panda vabbè devo risparmiare e ho rotto l'ascia no come farò senza vabbè ho preso tantissima legna ho preso anche l'eucalipto quindi ora ci faremo dei soldi perchè faremo le nostre le nostre golia comunque un po' cellino e lo uccideremo e quell'altro lo vedete anche poi comunque se io faccio e ovvero in menu vedrete queste cose qua ragazzi queste cose io vedete ok piccolo lag aiuto oh 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 che oro quello perchè sono due scheletri e ragni zombie ah aiuto 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 mp oh brutto stronzo ah star non devi morire oh 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 diamante no devo mangiare no no non si può prendere neanche 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 perfetto quello quello è anche magico vabbè prenderemo la prossima volta quindi io direi di farmelo qui la casa perchè ci sono molti andiamo qua poi ho visto delle cose rosse che forse non vedrete ma io credo di si eh forse stavo dicendo qualcosa che ho dimenticato eh scusate eh si ferro oro oh finalmente cosa possiamo prendere vediamo che cosa è questo e basta sento dei ragni brutti bastardi è pieno di grotto qua vediamo cosa è a me pietisco l'osmium ah ok wow se io faccio shift mi da anche i dettagli aha perfetto ci servirà per i nostri macchinari non ho tradotto perchè non voglio fare diciamo delle delle figuracce anche se io a scuola faccio inglese potenziato quindi dovevo essere un englishman ma meglio che cazzo è questo vabbè qualcuno aveva una botta di cacarella che schifo ok io lo sapevo io lo sapevo porca puttana io lo sapevo te fermo acqua 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 voglio andare nell'acqua si acqua acqua si l'acqua c'è salvato non è vero si è fermato ok eh però quella alba è bella non lo voglio distruggire speriamo che mi da i eh aspettate una no 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 ragazzi costruiamoci una bellissima casa a volo perfetto ok eh io la casa a momento la costruisco qua eh eh ragazzi faccio una casa momentanea quindi piccolina poi la allargherò per passare almeno la notte che già sta arrivando non voglio avere problemi con nessuno mettiamo un blocco qui per fare così la farò di aspetta ok ci sono anche i maialini qui quindi io sono in un punto strategico e vorrei sapere poi cos'è quello quindi ragazzi se sapete che cosa è anche quello il materiale e sta diventando notte ragazzi ditelo nei commenti ditemelo datemi dei consigli eeeh e che dirvi ah se volete giocare con me mandatemi un messaggio privato in un commento io vi contatterò e giocherò questa avventura in compagnia di qualcuno perfetto mettiamo qualche altra toscia che il buio non mi piace tanto comunque una workbench la facciamo ok io ho messo il telefono cioè ho impostato il timer nel telefono ma io come intelligente che sono non l'ho fatto partire quindi non so da quando sto registrando spero forse qualche 10 minuti forse anche di più e qui c'è il nostro bellettino ok eeeh facciamoci una porta eeeh no prima facciamoci una cosa visto che abbiamo ah proprio preciso 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 allora prendiamo facciamo qualche stecchino eeeh 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 ok e facciamo un'ascia e ho neanche il tempo di fare un'ascia che già è notte quindi dormiamo guardate qua le cose che compaiono tipo eeeh fixa i bug cioè quindi non stiamo non stiamo scherzando ma faccio adesso per vedere se c'è qualche mob what a eccolo lì qualcuno mamma mamma mia quante pecore e lui morirà perchè lui ce l'ha fatto volare ok io aspetto qua arriviamo a 60 fps mi piace muori e what a allora volevo fare l'uccisione epica tipo la e la lezione auditore ma non mi è riuscita perfetto ragazzi non so da quando sto registrando quindi io direi di stoppare qui il video eeeh qui c'è la caccarella eeeh comunque se il video vi è piaciuto eeeh vi ricordo di mettere l'ombra il mi piace cioè è l'albero che fa l'ombra ah beh mi distraggo facilmente io comunque eeeh vi ricordo di mettere l'ombra il mi piace commentate aiutatemi in questo mod pack pack ok eeeh appunto come ho detto prima se qualcuno vuol giocare con me mi scriva un messaggio privato o un commento eeeh che dirvi eeeh facciamo a volo una porta proprio fatta a volo ok tipo ci siamo in mezzo ok eeeh comunque eeeh vi ricordo di lasciare se ok basta però non posso dire sempre le cose eeeh ho detto tutto eeeh vi saluto ciao 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 ciao